Ed eccoci qui a Monterano. Siamo nel Lazio e ora vi racconterò, tramite le immagini e la mia voce, un po' di storia di Monterano. E' l'antica Monterano. Qui è una città fantasma in Italia, situata nella provincia di Roma, nel canale di Monterano. E' arroccata sulla spianata sommitale di un'altura tifacea. E quindi riprendiamo un po' anche la parte di Pitigliano, Sovana, insomma, tutti questi. Grazie a tutti. Le rovine dell'antico borgo, per la loro bellezza, e la relativa vicinanza a Roma, sono state utilizzate come sette di numerosi film. Da Grosseto sono circa 150 km. Arriviamo fino a Civitavecchia Nord. Usciamo e seguiamo per al Lumiere. Dopodiché ci sono le indicazioni proprio per l'antica Monterano. Monterano. Ebbene, anche la visita a Monterano è terminata. Una nota a margine. Alcune scene del Marchese del Grillo sono state girate qua. Quindi grazie per aver visionato il video. Se vi è piaciuto un like. E iscrivetevi al canale. Buona giornata. Ciao a tutti da Bob Gassi. Ciao a tutti.